Il teatro di strada Sul palco della città, tanti artisti internazionali come Loco Brusca dall'Argentina, Muriel Gleis dalla Francia e il due cileno Tobaric, per trasformare ogni angolo di città in un luogo di aggregazione e di scambio. Il corso Regina e Margherita hanno sfilato il 14 settembre scorso numerosi artisti che si sono esibiti in performance davanti ad un pubblico di passanti incuriositi e a tanti bambini ad occhi spalancati. Il festival pone particolare attenzione al tema della disabilità. Al Cecchi Point di Biacecchi, il cuore del festival è stata allestita a una mostra fotografica, curata da Arianna Sterpone dal titolo Le parole non sono poi così importanti. Negli scatti, la giovane è immortalata con il fratello afflitto da una forma di disabilità, che gli impedisce di parlare, ma evidentemente non di esprimersi. Quali sono le motivazioni per organizzare un festival di questo genere? Le motivazioni sono il coinvolgimento del pubblico e anche l'uso degli spazi in un modo diverso, perché la città per due settimane viene trasformata dagli artisti di strada e dal pubblico, che diventano protagonisti di un momento di aggregazione e di festa. È un modo diverso per stare insieme e per divertirci insieme. C'è una linea guida che state portando avanti? Allora, è cambiato che è sempre più difficile farlo, per il discorso della crisi a livello economico è molto difficile. La motivazione resta la stessa, anzi, e nonostante la difficoltà riusciamo a farlo a produttore. Sono tantissime persone che durante gli anni hanno conosciuto il festival, si sono uniti a noi e quindi ci danno una grossa mano e riusciamo anche quest'anno a fare una bellissima edizione del festival. Una uova scelta, sempre preparata per riuscire e incontra il caos in loro mente e in loro sottosani. Fools, come tutti siamo, quando ci sono un'altra stessa, trovando la sicurezza in diverse soluzioni, scendendo le mano e schiacciando le tue, rispondendo 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 le tue. Quanto essere un artista di strada è legato con il tema dell'essere nomad? Un artista di strada gira molto il mondo, porta il suo spettacolo, i suoi sorrisi, la sua gioia in tutte le strade e le piazze della vita. Infatti a noi piace dire che qui stanno arrivando più di 100 artisti che arrivano da tutte le strade del mondo e della vita. Una delle linee tematiche è proprio dedicata alla disabilità di strada, perché il festival ogni anno propone anche una parte del teatro di strada come strumento per la valorizzazione e l'integrazione. Per un artista di strada, cioè per un disabile, la possibilità di fare teatro di strada c'è, perché si possono fare un mucchio di cose. Oggi avremo proprio un convegno dedicato a questo e avremo protagonisti anche parecchi artisti abilissimi che fanno teatro di strada. Questa mostra non è nata con l'intenzione di essere appunto un lavoro che sarebbe stato esposto o visto da un pubblico, ma è nato proprio come un gioco tra me e mio fratello nei momenti di noia e di vuoto dei pomeriggi. Praticamente secondo me queste foto mostrano in una maniera abbastanza lampante quanto anche senza la capacità di parlare, perché appunto mio fratello è un ragazzo autistico con una forma abbastanza grave di autismo e non parla. Anche senza la possibilità di avere un dialogo si può comunicare in maniera altrettanto forte e altrettanto incisiva, come penso queste foto facciano comprendere abbastanza bene. Quello che il teatro mi ha insegnato è quanto sia importante andare oltre la superficie e questo con un ragazzo che porta una disabilità come l'autismo è qualcosa di ancora più profondo, ancora più sconvolgente perché con lui non si può arrivare alla superficie, cioè la superficie non esiste, bisogna passare subito al livello successivo e a quello che c'è sotto. E poi appunto il teatro ci ha insegnato a giocare, anche con i colori, con i travestimenti, con tutto quello che abbiamo a disposizione, anche le piccole cose e se questa è una cosa che io e lui sappiamo fare è grazie al teatro di strada. Tra gli appuntamenti da non perdere il 27, 28 e 29 settembre nel piazzale Antistante Italy a Lingotto, terza edizione di Street Italy. 3, 2, 1 La conosci un mes de noviembre Entre las paginas y un libro en blanco A primera vista su alma levantò en mi el encanto En un par de letras después Mil esperas Don nuestro Un amor exacto Anda cupido a ciega Has perdido por aquí Vagando por ahí Si Desde aquel día en que la conocí Yo sé Que amor sincero No es sentir pasiones Que amor verdadero Es resistir a tantas tentaciones Cientas razones Para amarte El orgullo aparte Escribir dentro de tu mirada Olvido para recordarte No, no es un pretexto Llamo entre comillas Secretos que hacen de los dos Personas tan sencillas Que hablan del corazón Esa es la misión Me enseñaste que no sirve Tener la razón Que cuando se ama El pasado solo lo que fue Y sabes Hoy entiendo que Solo tú Solo tú Solo tú Nadie en más que tú Solo existe Solo tú Solo tú Solo tú Nadie en más que tú Solo existe Solo tú Solo tú Solo tú Nadie en más que tú Solo existe Solo tú Solo tú Solo tú Nadie en más que tú Sì